19 mesi, tanto è durato per Donato Toma il ruolo di commissario ad acta per la sanità dalla nomina avvenuta il 5 agosto 2021. Lunedì mattina ha detto nel corso di una conferenza stampa protocollerò le mie dimissioni, esco da questa vicenda a testa alta, ha detto l'ormai ex commissario. A determinare la decisione una serie di fatti che si sono succeduti nelle scorse settimane preferisco lottare da presidente e rinunciare al ruolo di commissario. A testa alta, schiena dritta, mani libere. Ho da subito messo le mani dove qualcuno non voleva fossero messe, è chiaro? Ho visto cosa non andava, ho avviato le procedure per ridare ai molisani il sacrosanto diritto alla sanità. Ho sopportato per mesi calunnie, denunce, delegittimazioni, minacce. Sono andato avanti con la fiducia del governo Draghi. Nelle ultime settimane le cose sono cambiate. Come sapete il subcommissario Papa che con me collaborava lealmente e in maniera efficiente è stato costretto a dimettersi. Il nuovo subcommissario è stato scelto senza consultarmi, ho saputo il nome, dopo che mi ero seduto al Consiglio dei Ministri. E si muove in maniera non sincrona con il commissario. Per questo oggi vi annuncio che rassegnerò le mie dimissioni. Non lo faccio oggi perché vorrei che fossero tutti al loro posto di lavoro ai ministeri quando arriveranno le mie dimissioni. arriveranno nella mattinata di lunedì. Avrò le mani politicamente più libere di agire a favore della nostra sanità. Non della vostra, della nostra sanità. Ma mi sento a posto con la mia coscienza e continuerò la mia battaglia civile a difesa della mia popolazione che merita cure giuste. Una critica durissima toma la lancia all'indirizzo del tavolo tecnico, l'ultima delusione sul versante del servizio 118. Ieri sera arriva un parere, ho avuto una riunione con i medici del 118 e per me è stato un colpo al cuore, deprimente, deprimente comunicare un parere non favorevole, non hanno manco il coraggio di dire negativo, non favorevole che ho qui del tavolo tecnico, fra virgolette, a questo punto usiamo le virgolette, del tavolo tecnico che non consentiva di elargire a circa 40 medici, un poco di più, che facevano i doppi turni, un'integrazione contrattuale, una miseria contrattuale, un'integrazione contrattuale che in tutto sarebbe costata 300 mila euro. Mi sono sentito piccolo, 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 non sapevo più che dire a quelle persone che erano venute ieri sera. Non è possibile continuare così, il commissario ha una sottomissione gerarchica, perfetto, eliminiamo il mandato commissariale, il Presidente risponde al popolo e si erge nei confronti di chi non rispetta questo popolo. Basta, fare il commissario ad acta, per dare l'estrema unzione, non mi va, farò il Presidente per la resurrezione, che è un'altra cosa. Salvo quindi fatti imprevedibili al momento, termina così l'esperienza di Donato Toma, col sapore più della delusione che della sconfitta. Dal lunedì la parola passa al governo Meloni.